Il 23 novembre 2018 Era venerdì Era casa Nelle tese che mi venivano ad arrestare Nemmeno per un momento ho pensato di rendermela dettante Mentre cammino mi accorgo di essere seguito da CINF e Casabinieri in Borghese Mi rendo subito conto che mi stavano arrestando Camminavo, pensavo a quello che era stata la mia vita E da quella che sarebbe diventata da lì a qualche minuto Stranamente non venivo fermato Ma riuscivo a notare che erano costantemente lieve di me In quel preciso momento la mia mente mi mette davanti a due possibilità Se c'erano altre scelte non si vedevo Decidate di vivono morire Buona volta Deveve venire con noi In arrest In arrestare le scelte non si vedevo In arrestare le scelte non si vedevo Grazie a tutti.